Allora mister, vittorio importante 2-0, primo titolo per la Football Club, che emozioni si provano in queste gare? Per me l'emozione è tanta perché sono riuscito assieme ai miei ragazzi, anzi sono riusciti loro a ripetersi e a farmi rivincere a me per la terza volta perché io ho allenato anche il 97 l'anno prima quindi non è mai facile vincere e grazie a loro ci sono riuscito per l'ennesima volta tra l'altro un titolo un po' più importante rispetto a quello dell'anno scorso come significato anche se poi anche quello dell'anno scorso con la Roma rimarrà storico. Quali sono le corde da toccare nel momento in cui si va all'intervallo con un gol di vantaggio però non bisogna mai abbassare la concentrazione per continuare a fare un'ottima gara e poi raggiungere la vittoria finale? Io penso che le corde vadano toccate anche la settimana o comunque i giorni precedenti perché abbiamo avuto poche partite, pochi giorni per riposare non dimentichiamoci che per noi era la terza partita in una settimana mentre per loro era la seconda solo quindi le corde sono quelle di farli stare il più sereno possibile perché loro comunque sono consapevoli di essere una buona squadra e ovviamente non deve subentrare l'arroganza o presunzione ma l'umiltà che poi è quella che gli fa vincere. Qual è secondo lei il momento della partita a clou dove ha capito che finalmente questa finale potrebbe essere vostra? Le finali sono particolari, non voglio essere presuntuoso però io penso che il gioco che ha espresso questa squadra per tutto l'arco del campionato il campionato l'abbiamo perso noi, non l'ha vinto la Vigor per conti abbiamo buttato delle partite incredibili, loro probabilmente un po' più presenti alla lunga sono arrivati davanti ma io penso che ci sia senza presunzione e con un massimo rispetto per la Vigor per conti ci sia un po' di differenza soprattutto nell'intendere calcio quindi io gli ho sempre insegnato a giocare a calcio, giocare a palla poi ci sono partite dove ci si può riuscire e altre meno e loro l'hanno fatto per gran parte del campionato e questo è sulla bocca di tutti Uscendo dall'argomento, un'ultima domanda stasera c'è Lazio-Inter, come vede la sua ex squadra nella lotta a raggiungere il secondo posto quindi la Champions diretta Speriamo che facciano quello che abbiamo fatto noi, arrivare ai secondi e quindi sarebbe già un grande risultato, a parte gli scherzi sarà una partita stasera dura, io sono contento perché vado allo stadio con mio figlio a vedermela però tosta perché l'Inter comunque ha giocatori importanti, è sempre l'Inter ma comunque la Lazio può fare bene e speriamo possa recuperare qualche giocatore che è per loro fondamentale Da allenatore c'è la speranza un giorno di sedersi su quella panchina che adesso è di Pioli? Beh, sarebbe un sogno ma la mia speranza è di sedere su qualsiasi tipo di panchina parlando di grandi e di professionisti perché è quello che voglio, sto cercando di imparare nel migliore dei modi tra l'altro adesso tra poco finirò il corso Master e assieme al mister Olivieri che ci sta insegnando cercheremo di prepararci al meglio Grazie mille, ancora complimenti Grazie mille, ancora complimenti Parlando?